Quali sono gli studi più rilevanti presentati quest'anno a Barcellona al congresso della European Society for Medical Oncology per quanto riguarda il trattamento dei tumori genitorinari? Noi abbiamo chiesto a un'esperta la dottoressa Claudia Caserta che abbiamo incontrato a Pavia dove è in corso il convegno post ESMO 2024 organizzato da Women for Oncology Italy proprio per fare il punto sulle novità più significative e impattanti per la pratica clinica presentata al congresso di Barcellona. Dottoressa quest'anno all'ESMO a Barcellona per quanto riguarda i tumori genitorinari sicuramente lo studio più significativo che è stato presentato è lo studio Niagara presentato in un simposio presidenziale pubblicato anche sul New England on Medicine è uno studio che riguarda il tumore della vescica ci racconta un po' meglio diciamo che cos'è questo studio quali sono i risultati e perché sono risultati così importanti? Sì lo studio Niagara è uno studio che pensiamo cambierà alla pratica clinica nei prossimi anni perché il primo studio di immunochemioterapia neoadiuvante nei pazienti con carcinoma uroteliale della vescica non metastatico muscolo infiltrante lo studio ha ruolato pazienti che venivano randomizzati a ricevere chemioterapia che è lo standard di trattamento con cisplatino e gencitabina verso chemioterapia più durvalumab poi venivano sottoposti a cistectomia radicale e proseguivano nel braccio della terapia sperimentale il durvalumab adiuvante per 8 cicli lo studio ha dimostrato un prolungamento significativo della sopravvivenza libera dai 20 ed è anche della sopravvivenza globale quindi il dato è sicuramente significativo c'è una riduzione del rischio che è intorno al 32-33% e questo consiste in un vantaggio in sopravvivenza che si è visto anche un follow-up piuttosto lungo il follow-up mediano dello studio 42 mesi dove si vede chiaramente una differenza tra i due bracci di trattamento che è intorno all'8% in termini di sopravvivenza libera dai 20. Lo studio ha dimostrato anche una maggiore percentuale di risposte patologiche complete utilizzando la chemioimmunoterapia e questo ovviamente ha supporto della efficacia di questo di questo approccio terapeutico. Per quanto riguarda invece il tumore della prostata quali sono le novità più interessanti presentate a questo ESMO? All'ESMO di quest'anno sono stati presentati i risultati di uno studio che si chiama PIS-3 uno studio per lo più inglese e svizzero uno studio randomizzato che ha valutato l'aggiunta di un trattamento radiometabolico che è il radium 223 in combinazione con l'enzalutamide nei pazienti in prima linea malattia metastatica resistente alla castrazione. Lo studio arrollava pazienti con malattia esclusivamente ossea perché sappiamo che il radium 223 ha come target l'osso e che erano asintomatici o moderatamente sintomatici e che venivano randomizzati a ricevere la combinazione rispetto a uno standard di trattamento che l'enzalutamide. Lo studio ha dimostrato che la combinazione prolunga la sopravvivenza libera da progressione radiografica con un profilo di safety che nel complesso è stato abbastanza buono c'è stato soltanto una leggera percentuale in più di pazienti che hanno avuto delle fratture patologiche tuttavia lo studio ha un problema importante rappresentato dal fatto che i pazienti arrollati erano pazienti che nella fase della malattia sensibile alla castrazione avevano ricevuto in una piccolissima percentuale di casi un trattamento che oggi è il nostro standard di cura cioè l'impiego di un farmaco come l'enzalutamide o la palutamide o la biraterone e questo sicuramente rappresenta un po' un punto da considerare quando analizziamo questi dati perché nella nostra pratica clinica oggi questi pazienti sono diventati molto più rari quelli che non hanno ricevuto nella malattia castration sensitive altri trattamenti. Nella fase castration sensitive è stato presentato anche lo studio Aranot che conferma il ruolo di daralutamide come un altro degli agenti target del recettore degli androgeni nella fase castration sensitive. Per quanto riguarda invece il tumore del rene ci sono novità per quanto riguarda la terapia dopo la terapia di prima linea? Ora capire cosa fare in linee successive alla prima nel carcinoma renale metastatico è un obiettivo molto importante perché i pazienti che ricevono una prima linea oggi sono pazienti che vivono a lungo e ricevono in genere una doppietta o di immuno immuno oppure di immunoterapia più un inibitore del target della tirosinchinasi del recettore del vascula endotili agrofactor. Questo trattamento in seconda linea oggi noi utilizziamo di fatto un altro antiangiogenico diverso da quello utilizzato in prima linea e all'ESMO sono stati presentati dei risultati dello studio T-Nivo 02 per esempio che è uno studio in cui si è provato a utilizzare ancora un immuno checkpoint inibitore in questo caso il Nivolumab in combinazione con il T-Vozanib verso il solo T-Vozanib. Lo studio è sostanzialmente negativo e quindi mette in qualche modo insieme ai risultati di un altro studio precedentemente pubblicato che lo studio CONTAC3 la parola fine sul ragionamento sulla ipotesi di poter continuare ad utilizzare l'immunoterapia anche in seconda linea. Di fatto oggi la nostra seconda linea rimane l'impiego di un inibitore della tirosinchinasi del recettore del vascula endotili agrofactor diverso da quello che abbiamo utilizzato in prima linea. Ci sono stati degli aggiornamenti anche con lo studio del Belzutifan, Light Spark 005, studio che ha dimostrato un incremento dei tassi di risposte obiettive della sopravvivenza libera da progressione utilizzando Belzutifan in linee successive addirittura la seconda perché erano quasi tutti i pazienti trattati in terza e quarta linea e lo studio dimostra un beneficio ma ad oggi all'ESMO sono stati presentati i risultati anche dell'aggiornamento della sopravvivenza globale che purtroppo non indicano un beneficio dall'impiego del Belzutifan rispetto ad Everolimus. Il futuro di Belzutifan si gioca probabilmente sugli studi in corso che sono studi in combinazione con altri agenti.